Grave lutto nel mondo dell'alpinismo è morto all'età di 91 anni Cesare Maestri, il ragno delle Dolomiti. Negli anni 50 e 60 è stato il più grande arrampicatore al mondo per aver aperto innumerevoli vie del sesto grado che allora era il massimo grado di difficoltà. Il servizio è di Gabriele Carletti. L'impresa migliore è quella di saper invecchiare. Voleva essere ricordato così, ce l'aveva detto un anno fa nella sua ultima intervista alla RAI e fino alla fine Cesare Maestri il ragno delle Dolomiti è rimasto aggrappato alla vita. Se n'è andato a 91 anni, ha scritto pagine immemorabili di alpinismo, ha affrontato 3500 salite, la maggior parte in solitaria. A tradirlo non sono state le rocce, ma l'età. Il vuoto mi dava una sensazione quasi di libertà. Alpinista, partigiano, scrittore, iniziò per caso lui, che era figlio di attori e presto divenne un fenomeno. Il più grande dei trasgressori lo ricorda l'alpinista Franco Nicolini, uno che ha riscritto le regole, un ribelle della montagna. Come quando negli anni 50 affrontò la via delle guide sulle Dolomiti di Brenta in discesa senza corda, la lanciò nel vuoto spavaldo. Non ha mai avuto paura di morire? No, mai perché sapevo di essere bravo, scusatemi. L'annuncio della morte l'ha dato il figlio Gianluigi sui social. Questa volta, ha scritto, Cesare ha firmato il libro di vetta della scalata della sua vita. Il suo più grande insegnamento è dire sempre quello che si pensa, ci ha confidato Gianluigi. Per Cesare e maestri non ci saranno funerali, faremo una festa in un parco quest'estate come avrebbe voluto lui, spiega il figlio, quando forse potremo tornare ad abbracciarci. E Cordoglio in regione, anche a livello nazionale, proprio per la morte di Cesare e maestri. Ne ricordano il carisma agli alpinisti della SAT. Osservare le sue mani era fare un viaggio nei tempi eroici della montagna scalata, conquistata e vinta con la cenata di una sfida epocale, dicono. Poi dal Trento Film Festival, sarei per sempre alpinista, partigiano, scrittore, uomo libero e amico. Simbolo di un popolo che con la montagna convive, si legge nella nota della provincia. Cordoglio anche dal Consiglio regionale e poi dal Comune di Trento, ha onorato la città e il Trentino senza mai perdere l'umiltà e l'umanità.